bene laura è l'amica di oggi ciao stefania ciao lucia ciao laura ti accompagnano a connetterti a laura di cui sentito i punti insieme a me contando da 5 a 1 come sempre 5 4 3 2 1 la vedo sto vedendo come immagine una bambina una bambina che è molto impaurita molto agitata sta correndo a destra sinistra perché c'è un pericolo potere sui cinque anni e lei ti dà l'autorizzazione e dell'autorizzazione non è lei in questa vita ma è come fosse una parte di lei quindi è una parte ma all'interno di lei una parte non è una vita precedente no direi più che è una parte che si sta manifestando di lei magari mi si chiarirà meglio a questo punto abbiamo l'autorizzazione vediamo subito quanto vibra laura 15 miliardi percentuale di consapevolezza 60 per cento rapporto anima spirito la ps all'anima e 30 per cento e la e lo spirito dei 70 vite precedenti 1450 per cento al di cervello utilizzata in 2,7 va bene così vai libera dimmi cosa vedi come interferenze come situazione allora intanto quella bambina che ho visto prima quella penso sia una rappresentazione della della ps è una parte di lei che molto 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 spaventata molto spaventata già da qualche tempo direi qualche anno è come se fosse molto sensibile ai pericoli e alle paure alle cose che possono succedere e lei che mi diciamo mi sta accompagnando questa parte qua allora quello che vedo è come se ci fosse una nebbia intorno a laura una strato nebuloso che avvolge le gambe il corpo che sta le sua spirale in questa maniera qua fino dai talloni fino alla testa la ricopre e come se fosse in una spirale con un sentimento questo colore leggo molto un sentimento un emozione anche un'emozione che che ha sovente che proprio quello della paura e delle come se anche se una cosa nebulosa quindi percettibile quindi le sottile diciamo è come se la stringesse ogni tanto come se la costringesse come un serpente diciamo così con una seconda le spire ma è un impianto e l'insieme delle interferenze che creano questo vortice questa spirale non è un impianto ma sono più interferenze messe insieme e vedo delle ecco vediamo vedo delle come fossero delle parti come posso dire dunque militari cioè come fosse una allora diamogli un volto ci vede intanto un anfibioide un anfibio un essere anfibio che ha come una tuta e come delle squame con lo vedo così è messo alla sua destra e poi vede in basso all'altezza dei piedi come dei un essere che è basso può sembrare tipo un troll un gollum insomma una cosa molliccia tutti tutti cooperano cooperano insieme per far sì che lei se si senta stretta in queste spire immagino ci siano anche dei rettiliani perché proprio la immagine come fossero delle spire di un serpente che la costringono la stringono e a tratti la stringono più stretta a livello a livello della testa no a livello del petto ci vede un impianto qua proprio a metà insomma del seno ci vedo un impianto che come se fosse un bottoncino con dei comandi che ogni tanto viene premuto viene rilasciato e questo serve per attivare come per attivare una qualcosa legato alle emozioni ok da questo bottoncino parte l'intensità dell'espire legata alla paura quindi quando viene premuto in eterico dall'interferenza lei inizia a vibrare in un modo diverso in si innesca in lei questo stato di paura forte quasi di panico come fossero degli attacchi di panico e in particolare di notte quando c'è buio a livello di interferenze mentali la dita mentale si identità mentali vedo che allora a livello della fronte lì a un impianto in realtà un impianto che collocato qua proprio qua dove c'è il terzo occhio e dunque impianto che ogni tanto si sostituisce al senso della vista anche questo si innesca in particolare di notte di sera di notte e poi invece come entità dunque vediamo una in basso a destra una in alto a sinistra quella in basso a destra è legato alla costrizione di nuovo c'è questa cosa che ritorna nel sentirsi obbligata del sentirsi costretta in un ruolo in una posizione che non desidera più che non desidera la desiderava malessa stretta messa come adesso è come se a volte non riuscisse a respirare tanto sono le costrizioni esterne ma anche delle relazioni anche delle imposizioni esterne familiari e anche proprio a livello di relazione quindi anche amici e amiche invece in alto a sinistra e ce n'è uno legato a quello in basso a destra a livello 5 quello in alto a sinistra invece è a livello 4 ed è legato nuovamente tutto ritorna come l'impossibilità di essere libera come se la vita che ha condotto finora non l'avesse vissuta pienamente per se stessa e non solo perché sposata perché dei figli ma perché è come se si fosse sempre presa al carico di altre persone per non anche dovere essere libera quindi anche ha trovato tante tante volte anche delle dei carichi esterni volutamente si è messo sotto dei carichi esterni proprio per non poter scoprire in modo da non dover scoprire come si vive nella realizzazione nell'essere libera e vivere per se stessa quindi si è autocensurata queste due entità mentali una entità una serie di entità e teri che a base militare forse non lo sai stefania mai gli anfibioidi sono quelli della guerra ecco ogni guerra fondai sono rari descrivere 1 il capo anzi al capo che vedo come si presenta un viso umano non è umano però si presenta con un viso umano è un ok ha cambiato ha cambiato la forma allora io lo vedo come alto alto come come un essere umano diciamo così piuttosto alto potrebbe essere appunto su 180 185 e lo vedo in una fattezza di anfibio quindi con la coda che tocca per terra schifoso devo dire con questo squamoso sul verde grigio verde grigio più verde grigio più verde che grigio e vedo lo vedo in effetti come rappresentato qua con una divisa militare a tante bandiere quella americana poi quella russa da tante tante di tante nazioni come se fosse lavorasse tutti per tutti a livello mondiale ma non solo vedo anche libero di altri pianeti l'italia anche se sì ma dove le principali sono le nazioni le potenze principali però sì penso che c'è anche l'italia sicuramente ci vedo la romania anche ne ha ne ha tante d'africa sì non lui direttamente lui era come fosse rappresentante però sì 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 direi che che lavorano su tutto su tutto il pianeta un po meno forse meno nel nord europa come se avessero meno non meno basi ma meno meno gancio sulla norvegia sulla scandinavia su questi paesi qua anche la sulla svezia vedo che hanno meno ganci meno presa meno presa qual è il nome del progetto che riguarda laura allora i k n o b o s il club boss sì che non posso cosa vuol dire e la rappresentazione della sua condizione di ora di costretta nella morsa stretta nella morsa la traduzione quella stretta nella morsa quindi privata di ogni libertà ok vita parallela tra le 1450 in cui c'è qualcosa di simile abbia arrivata una vita collegata agli anfibioidi in cui ha collaborato con gli anfibioidi ha collaborato ad un progetto che era non era totalmente cosciente di cosa comportasse il progetto ma era legato a degli impianti mentali il progetto era sull'impianti mentali delle persone ecco gliele hanno passata così ed è in parte in realtà con l'impianto mentale che ha che ha in mezzo alla fronte che ancora collegato quel progetto come la come era stato usato in quell'altra esistenza però quella l'impianto era applicato ad altre persone allora la funzione era quella di togliere di alleggerire le persone la mente delle persone da alcune paure e quindi mostrare solo mostrare le cose invece che come si presentavano nella realtà mostrarle trasformate quindi sostituire la realtà sostituire la realtà erano degli impianti che venivano piazzati messi in eterico e servivano per andare a creare una falsa realtà e perché come collaborava collaborava attraverso la medicina come se fosse stato era un uomo uno scienziato un dottore per cui rendeva come posso dire portava direttamente i pazienti agli esperimenti a questi anfibioide cioè nel senso che le anfibioide andavano in eterico di notte e piazzavano questa cosa a dei suoi pazienti era nel campo di ricerca mentale mentale hanno io vedo un mille 1740 e qualcosa 46 40 lui era donno uomo 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 erano scienziato uno scienziato della mente ma poteva essere adesso ci sono non era neanche uno psichiatra proprio faceva esperimenti legati alla percezione della realtà ma in ambito militare lui lo faceva in ambito civile poi è stato contattato da questi anfibioidi che in realtà non si sono presentati come come esseri come anfibioidi ma sotto forma di progetto quindi come esseri diciamo umani ma sotto forma di un progetto che però era collegato agli anfibioidi ci si sono presentati sotto forma di finanziatori di ricerca e lui i suoi pazienti li portava all'interno del progetto qualche centinaia qualche centinaia bene vediamo un po di causa esoterica stefania problemi di sonno si sveglia vibra si alza stanca fa tanti sogni causa esoterica allora una causa è il fatto che questa parte di spire che la costringono e di tutto il progetto che la costringe fa sì che le abbia un'attività eterica importante vivace diciamo tutto quello che durante la giornata lei non ha la possibilità di fare che vorrebbe fare o che non può fare lei lo passa alla fase notturna per cui va spesso in giro quindi con le uscite dal corpo le ops va anche incontrare persone quindi si sposta molto col suo doppio e questo è uno dei motivi e l'altro motivo che viene visitata cioè ci sono delle ad action e anche in casa sua delle dell'entità che la visita non c'è vanno a farle visita si quanti ad action al mese al mese una decina più o meno due settimane si alza stanca per quello si alza stanca per entrambi i motivi perché come se fossero andassero in parallelo quando non ha delle ad action lei viaggia si sposta e fa è come se avesse questa porta aperta in uscita e anche in entrata e anche in entrata per le ad action l'entità interferenza che vanno disturbano sì per quello si sveglia così la mattina per lo stesso motivo ha avuto dei forti dolori la schiena no mi spiego meglio i dolori la schiena invece sono stati legati a questa morsa di costrizione alla schiena al braccio perché sono tutte parti che sono coinvolte nel fatto che più le si sente stretta e più le cerca di respingere e quindi emette una una forza anche in particolare di notte anche livello muscolare di corpo che fa sì che si alzi e spesso è tutta rotta a male in tanti posti del corpo causa di dei sogni che fa legati a vite precedenti e perché anche questa è legata al fatto che non era una cosa che era calcolata no dal progetto ma il fatto di costringerla tanto nella giornata le punto le permette di fatto trovare una scappatoia una via d'uscita del fatto di spostarsi muoversi avere percezioni diverse più affinate rispetto a una persona invece che ha un'attività già che vive intensamente durante la giornata e quindi fa quello cioè lei a questo canale aperto a questo canale aperto rispetto agli incontri notturni anche con altre ps sogni persone che incontra che la vengono a trovare a tutta questa parte diciamo che vive più vive più di notte che di giorno e più pienamente di notte che di giorno quindi diciamo di giorno lavora 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 di notte vive si sposta lei fa così fa l'ok il prezzo giusto con le mano come dire purtroppo è proprio così io aggiungo purtroppo e dice proprio così ritenzione idrica il suo corpo funziona bene io non vedo potenzialmente il suo corpo non ha non ha problemi fisici quello che sente è legato a questa costrizione perché non è qualcosa che viene trattenuto dal corpo come dire la ritenzione idrica dalle cellule che viene ritenuta all'interno è qualcosa che dall'esterno preme e fa sì che sì che rimanga all'interno quindi lei a ritenzione idrica perché c'è questa morsa che la sta stringendo queste spire che la stringono una volta che vengono tolte le spire questa parte di ritenzione va viene meno di braccia gambe perché ci sono le spire sì 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 è tutta volta a partire da così e va in senso antiorario come la veste di fronte piedi caldi e ciste al piede destro i piedi caldi sono legati a alla condizione particolare di questo periodo in cui si sta muovendo poco e lo lo ovvia con lo supera dedicandosi nella giornata a dell'attività fisica al camminare in particolare cosa che fa in modo molto limitato e invece la ciste la vedo come fosse mi viene questo termine come fosse una punizione una punizione perché non sta ferma nel progetto ok come durante una d'action durante una parte del progetto in cui doveva rimanere immobile no lei sì sì come si possa dire si reagisce sempre molto e quella cosa è stata messa eccoli in effetti come fosse un impianto è stato messo per ricordarle che non deve non mi viene il termine non reagire che non deve ribellarsi ecco e lì e lì e lì e lì e quando lei lo vede quando lei lo tocca lo sente quando si mette le calze per dire in qualche modo ha un aggancio al ricordo che deve rimanere tra le spire senza fare troppo senza ribellarsi troppo quindi è una memoria in tutto il corpo buona parte sì 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 lo stessa la stessa cosa come la ritenzione sì 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 fame nervosa e problemi di gestione la fame nervosa e problemi di gestione sono tutti legati alla parte mentale del lato del lato del suo lato sinistro in alto a sinistra sono legati a quella entità mentale 4 la 4 che le cerca di andare a sanare riempiendo dall'interno quindi mangiando cercando di essere libera di vivere come ecco vive il mangiare come possibilità di libertà quando mangia e come se si sentisse soddisfatta cioè mangiare per aver la soddisfazione del dire sto scegliendo io in questo momento sono libera come darsi un'autocompensazione un'auto una coccola diciamo così per contrastare quella parte di costruzione che sente arrivare dall'esterno anche relazionale anche relazionale non solo dell'entità proprio questa parte legata a relazionale tutto ciò che la sta bloccando dall'esterno che lei vive come una costruzione quindi la gestione sì 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 gomito ci può dire se il gomito destro gomito sinistro alzalo alza la mano a destra ma allora io li vedo che vedo che c'è stato una come se avesse battuto come se come se avesse battuto io lo vedo su una scrivania su un tavolino come se avesse battuto e però in un momento come in cui non era molto consapevole come in un momento di nervoso di agitazione e come se non avesse memorizzato l'azione però io lo vedo legato una cosa fisica che lei ha fatto durante il giorno come se per agitazione per la rabbia per il nervoso avesse avuto una reazione di uno sfogo e avesse dato un colpo col gomito su una parte piana però poi l'avesse rimosso come ha anche ha rimosso tutta la parte della della radiatura sì come se vai passasse come se rimuovesse più che vai passasse sì 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 va bene occhi i fastidi che agli occhi sono legati all'impianto che ha tra le sopracciglia con l'altro occhio sì e anche quell'impianto lì fa anche in parte l'azione del progetto in cui aveva nella vita precedente parallela in cui aveva collaborato con gli anfibioidi che a volte è lo stesso tipo di impianto che lei aiutava ad applicare agli anfibioidi che permetteva agli anfibioidi di applicare anzi è come se gliel'avessero piazzato e l'avessero messo e anche quello va a sostituire delle realtà per cui in particolare di notte e di sera il vedere delle immagini non quando esce dal corpo non quando quando alle ob le ome ma quando vede magari delle immagini o anche quando vive delle situazioni e poi le ricorda diversamente le vive in un modo come grande costruzione e poi le trasforma come memoria le trasforma e fa parte parte da questo punto qua quindi gli occhi e la percezione delle cose più che come le percepisce comunque proprio come le ricorda successivamente è legato quello ok sole nero l'ha visto giusto laursi quello era la fine di una d'action la fine di una d'action era un'entità che aveva stava aveva operato su di lei che era vicino nel momento in cui lei è tornata ha visto ancora questo questo quest'ultimo fotogramma che l'è rimasto impresso negli occhi come anche quello che succede appunto in camera di sera di notte o la mattina presto ancora quando c'è ancora a buio alcune visualizzazioni o sogni insomma ordine spasso scarafaggio mi sembra che lo scarafaggio fosse quello legato anche al sole che inizialmente fosse l'avesse visto come scarafaggio dopo avesse visto invece un sole nero insomma di ricordare quello ma sono tutte delle sono tutte dei fotogrammi che le rimangono impressi e subito dopo le ad action quindi lo scarafaggio è praticamente come se fossero pezzi d'immagini che li rimangono negli occhi ma che non sono come posso dire non appartengono alla ma la realtà non appartengono a quello che appartengono proprio la fine dell'esperienza della d'action nel passaggio da quella condizione alla condizione di ritorno è come se avesse dei fotogrammi dei mini fotogrammi di cose che non però non hanno attinenza con quello che le è successo ma è un errore della plan su questo cosa intende che non sono riusciti o che no che è un malfunzionamento le immagini si l'immagine si non c'entrano con la d'action non dovrebbe ricordarsi nulla e se lo ricorda e soprattutto appunto non incendono con la black so quindi sono volute per depistarla per farle ricordare delle cose che non c'entrano niente con quello che le è successo o è proprio un errore del programma è un errore del programma perché la daction abbinata questo questa parte che ne ha in mezzo alla fronte è come se andassero un po a cozzare come se andassero un po a a interferire tra virgolette uno con l'altro per cui questa parte è adibita a creare dei delle false immagini no e e la daction non dovrebbe proprio ricordarla per cui lei come se andasse a sovrapporre quelle due cose e avesse dei dei fotogrammi che non riguardano la daction però che riguardano il come si dice quella quell'impianto che a a livello della del terzo occhio vedi una sfera allontanarsi nello stesso lo stesso stesso motivo vede foreste a occhi chiusi sì lo stesso motivo per per spiegarle meglio quando lei è quello che di reale vede cioè di cui fa realmente l'esperienza lo fa nel sonno diciamo quando non è neanche nel dormiveglia quando proprio in una fase di sonno allora lì esce e quello che vede lo vede su altri piani invece tutto quello che lei ha visto finora ad occhi chiusi cioè o ad occhi aperti nel buio tutto quello era frutto dell'impianto tra le sopracciglia solo per per chiarirle meglio questa cosa mi stavi dicendo non mi ricordo più ma se ci sono ci sono dei cloni dei cloni no non ne vedo non ne vedo va bene azienda di famiglia lei lavora lì alti e bassi blocchi c'è una causa esoterica allora vedo che l'azienda di famiglia è osservata e osservata come facesse parte anche quella del programma e di come se fosse deve andare come vogliono le interferenze non per come dovrebbe andare perché sarebbe già decollata molto anche a livello economico a quest'ora invece come se anche lì ci fosse questa come se il parte del progetto di cui fa parte lei rientrasse anche l'azienda e quindi genitori quindi è un progetto direi familiare più che personalmente su di lei perché vedo che guardo i genitori questa parte di nebbia grigia intorno di spire io li vedo anche sul padre è una specie di patto sì sì che riguarda la famiglia di lei quella di nascita diciamo sì scarpe assenza di ricordi da 0 a 6 anni da 0 a 6 anni o dai sei in poi o da 0 6 da 0 6 non l'avevo sentita questa cosa benettono 0 6 0 6 anni io ci ho messo anni per capire cosa che cos'è 0 6 l'età era e da 0 sia è la linea per carini da 0 6 anni l'ho capito 0 6 anni sì adesso mi si collega la bambina che sta facendo segno che sta facendo segno anche se la bambina non è lei cioè non è lei da piccola ma è una parte di lei è una parte di lei scusa sì è una parte di come fosse una parte della ps una percentuale diciamo una parte della ps che mi spiega che l'età da 0 a 6 anni che poi in realtà mi dice che anche fino a otto anni cioè mi sta dicendo di andare oltre con l'età che ancora fino agli otto anni questa cosa si è manifestata che dai 6 agli 8 a pochi ricordi qualcuno ma pochi mi sta dicendo che quelle tali è stata costellata da grandi paure da grandi preoccupazioni e lei a per via un attimo preoccupazioni abduction famiglia familiari familiari da grandi paure ecco a vedere la bambina da come si è presentata all'inizio come se avesse paura di terremoti di tutti gli eventi naturali delle catastrofi quindi come se avesse o ha vissuto un evento che è stato così importante da mantenere questa condizione di paura che a vibrare fino a quando era fino a verso gli otto anni però sembra che un evento esterno abbia fissato in lei questo questo livello di preoccupazione per cui come se lei invece di reazione avesse sostituito tutta questa parte qua e l'avesse non l'avesse più ricordata così col periodo ma l'avesse sostituita con una costruzione sopra la realtà come tutto bello tutto bene tutto perfetto senza però ricordare che cosa i momenti belli dei 06 no ma solo ha preso tutto il pacchetto di preoccupazione di paura di grosso grossa ansia grande ansia e l'ha sostituito con l'etichetta tutto a posto tutto bello però se vai che se dovessimo a chiederle uno dei ricordi di tutto bello non ci sono neanche uno no brutta domanda terza terzo capitolo cinivac sì domani sì no chiediamo la sua ps animo laura che ti vedo tristissima animo sì no lo chiediamo alla sua ps chiediamo alla sua ps prima di tutto se la 1 e la 2 lei le voleva allora come devo collegare a tutta la ps perché la parte bambina non non è no 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 è una parte questa cosa che la bambina una parte della ps e come fosse una una percettuale una da un segmento una parte che si manifesta una parte non è tutta la piazza vedo che tutta la ps completa a tante parti in sé non è solo questa di paura di preoccupazione no allora allora rispetto alla prima la seconda è come se lei avesse fatto la ps avesse fatto trovato una un accordo è come se avesse trovato un accordo per essere unita per essere per non sentire la pressione esterna e non sentire quella interna perché no non voleva farla la ps non voleva farla nella prima ma la seconda invece l'ha accettata più di buon grado e adesso poi vediamo perché adesso mi dirà perché la prima non la voleva fare ma questa spira questa spira intorno è andata a dare sempre meno possibilità di decisione come trovare un accordo fare un contratto trovare un accordo tra il fatto che non assolutamente non la volesse fare e invece dell'esterno ci fosse una pressione molto grande perché la facesse questo mi fa capire l'influenza della delle dosi no come vanno a cambiare la ps perché la prima assolutamente non la voleva fare la seconda l'accettata vuol dire che la ps ha avuto come dire una diminuzione di l'impatto di potenza di decisione diciamola così poi magari tu mi aiuti a trovare un'altra un altro termine intento come se iniziasse fosse stata più soggiogabile con la seconda la terza quasi quasi non ha più diritto di parola cioè non so se se mi spiego quasi è come se dicesse devo farla e da lì capisco l'influenza che c'è all'interno di queste di queste dosi sulla ps e sull'integra e sull'integrità della prima della piesta ma dopo la terza la ps sarà ancora tutta dentro laura io vedo che ogni ognuna perde di perde di potere perde di e come se diventasse sempre più debole per cui se guarda in avanti non ho capito cosa diventa le vuole la ps ok sì come se accettasse sempre più di buon grado come se fosse sempre più remissiva quindi non più pienamente consapevole cosciente di quello che vuole e di quello che può fare quindi la piesta sta ancora all'interno ma con sempre meno capacità di agire quindi se vogliamo sempre di più all'esterno sembra più plagiabile più plagiabile quindi all'interno vabbè però se si dice più 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 plagiabile fuori un pezzo dentro tipo metà e fuori metà e dentro quindi non essendo completamente presente quello che è dentro che si è come se io la vedo come se fosse tutta all'interno ma come se di fatto invece di essere togliamo un attimo la pieno facciamo conto che la ps 100 per cento di ps no come se nella prima dose fosse cento per cento nella seconda fosse 80 per cento nella terza fosse 40 per cento per dire no è già proiettato sulla terza la quarta 20 per cento chiaramente la percentuale che manca c'è ma è come se fosse inibita cioè c'è all'interno ma come se fosse inibita come se non avesse più potere nell'intento nel dire io adesso prendo e faccio cambio lo voglio così chiama una persona qualunque analizza non chiama una persona qualunque nel mondo che ha fatto la quarta esiste solitamente dovrebbero essere in israele che sono i primi che hanno iniziato in qualunque abitante donna uomo israeliano che vuole presentarsi a noi per farsi vedere vediamo quanta compi s quanta ps e quali si ha detto il quale il per cento di questo va dalla p e proprio come se la ps stessa perdesse iniziassi a svanire io vedo un 20 per cento ma come veramente c'è vista questo è d'ac mi mi . Grazie. Vedo la nonna. Non ne vedo. In tanti stanno già passando su. Quantificabili in questo numero qua, che stanno passando? 230. Sì. Partiamo dalla, ok, mentre loro passano, non di aprire gli occhi e non fare nulla, ma la tua camma ha smesso di funzionare, ma non fa niente, succede, quali, mentre loro passano, il 230, nei quali non penso ci siano compresi i tre specifici che abbiamo chiamato, chiamiamola nonna. Sì, la nonna è lì, la nonna sono tutti e tre in piedi. Allora. La nonna. Vedo che la, che la saluta, che la vedo come è emozionata, che sta dicendo che è contenta di essere lì con gli zii. che sono riuniti ed è contenta di vederti, di vedere Laura. e dice che ci tiene a dire questo perché appunto la sente preoccupata e ci tiene a dire che non tutto è perduto. dice non tutto è perduto. E dice che c'è una frase che sembra che ripetesse spesso, comunque fosse nella sua, nel suo modo di fare, di pensare, che si può, si poteva trovare sempre una soluzione a tutto. dice, le ricorda che si che cercandola, che cercandola si può trovare una soluzione a tutto. e che lei è la, mi verrebbe da dire l'artefice della sua vita, ma non è un termine che userebbe lei, come dire la padrona della chiave, che la porta e la sua e lei ha in mano la chiave. mi fa questo, mi dice questa cosa. e lo zio e la zia? e lo zio è come se avesse fermato qualcuno lì vicino, non so se può essere la una moglie, può essere una ragazza, vedo che c'è una donna vicino a lui, che l'ha tenuta lì vicino, a cui lui era legato. e mi dice che sta bene, le dice che sta bene, le dice anche che non tornerebbe indietro, non tornerebbe indietro, sì, per abbracciare loro, ma che non tornerebbe indietro, che è contento, è contento come è, per come è, per dove adesso, per come sta adesso. e la zia, anche la zia, la vedo serena, la vedo tranquilla, la saluta, dice che le vuole bene, che è contenta di averla conosciuta, di essere stata sua zia, di aver avuto una vita con lei. ok allora li salutiamo, diciamo loro anche no, ma non serve dare loro la vic, perché non è assolutamente necessario, attraverso il portale aureo, è come se la prendessero, si spogliano di tutti i contratti, le entità, gli impianti, l'idea stessa di essere zio o zia, quindi maschio, femmina, tornano a essere energia e da lì possono poi decidere che cosa fare, incarnarsi, stare lì, alcuni sono anche tornati alla sorgente, un po' difficile in questo caso, ma due coniugi sono riusciti a tornare direttamente alla sorgente, abbiamo combattuto un po' con quelli là su, ma poi alla fine sono riusciti, siamo riusciti a farli entrare. ok, salutiamo anche questi, quindi un totale di 233 sì e abbiamo praticamente anche senza praticamente visto tutto, chiediamo quindi portale aureo e chiediamo a Laura di portarci dove lei vuole trovare una soluzione a tutta questa situazione, cioè al cluster guarda mi sta portando nel cluster che è un reparto di ospedale prima volta e me lo mostra così guarda può essere una terapia intensiva se ti devo dire per come la immagino io vedo degli infermieri degli infermieri che stanno facendo le dosi quali i dosi della del cinema esatto del cinema vede tutti tutti con questa 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 tuta addosso con queste mascherine trasparenti di di plastica e lì mi porta lì questa città mi sta facendo vedere quello sì 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 in questo momento sì il suo cluster ha deciso ratti sono le seringhe no i contratti sono nelle seringhe ma i personaggi chi sono i personaggi sono i personaggi dei contratti o i personaggi che ci sono nel cluster in questo momento quelli lì che hanno le seringhe in mano sì quelli che sono nel cluster e mi fa vedere dei dottori degli infermieri e delle persone che se lo stanno facendo iniettare ok ma sono dei delle rappresentazioni delle vite passate di laura guarda penso penso che quando è detto di andare in un posto per trovare una soluzione e poi detto il cluster che in prima battuta lei abbia voluto portarci qua a portarmi qua per andare a risolvere quella cosa lì intanto come a tirare via tutta questa struttura come se prima di tutto ci fosse il desiderio di risolvere quella cosa lì è possibile che sia il passaggio per il cluster no ma che non sia ancora il suo cluster cioè ci tiene a buttare giù tutto ecco insomma può buttarlo via sì 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 lo sta facendo è molto arrabbiata ce la vedo che è molto molto decisa molto decisa molto decisa molto ingannata si si sente proprio un impatto di dire di distruzione cioè di far finire tutto questo questo è quello che dice si ha buttato via tutto ha buttato una cosa tutto questo ovviamente non lo desideriamo ne che meno io ma tutto questo è un grande banco di prova cioè la realtà prima stavamo bene non era vero non stavamo bene è arrivata questa roba che c'è permesso ci ha permesso di imparare delle cose se poi non le impariamo non è colpa di sta roba perché prima non si stava bene la vita si basava su cose non voglio mettere particolare comunque si basava su principi folli e ancora si basa al momento questa cosa si tratta tirata fuori per tirare le fila e quindi l'obiettivo non è quando finirà se l'obiettivo è capirla la lezione non è quando finirà perché a forza di dire quando finirà non finisce più non finirà mai punturina sapere non serve a nient'altro che ha un controllo totale quindi a vari step e scaglioni di di chiusura a progetto di spire no di chiusura della spira intorno al collo di tutti se se uno accetta la punturina accetta il fogliettino e accetta tutto domani qua e la cina sappiatelo quindi dobbiamo capirla questa cosa se no davvero non finirà anzi finirà male non è che non finirà mai finirà come ma molto male molto molto male guardateveli dei video che ci sono non nei canali mainstream guardatevele delle informazioni iscrivetevi non vi devo dire io in quale canale di messaggistica dove ci sono le cose libere e non bloccate la signora z se non lo fate inutile dire non finirà mai perché finirà molto male detto questo andiamo al cluster togliamo tutto quello che c'è lo deve fare lei lo deve volere lei potrebbe anche non volerlo sì 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 mi sta portando al cluster allora davanti ci sono vedo come tanti tante scatole tante scatole grandi scatole piccole scatole di cartone così delle scarpe delle scarpe ma anche quelle per i pacchi per lavatrici c'è proprio scatole scatole scatoloni per per imballare quindi oggetti più piccole gente più grandi sono messi lì sembrano un po sparse un po la rinfusa però ognuno ha all'interno un contratto sì 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 se lei ha deciso di togliere via tutto 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 completamente è molto deciso è molto decisa ok io sta facendo non sta facendo non c'è più niente sta già creando sta provando insomma di creare ad eternum e lo sta facendo prima ha fatto come una scintilla cioè nella prova ha fatto come una scintilla come un accendino si mettiamolo qua quando si fa lo diamo al subito all'altra ok ne ha messo uno grande ok ci siamo lo toglie lo elimina con tutto scrivania computer senza stare a più analizzare nulla non serve più una festa è finita ad eternum anche qua sì 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 l'ha messo ne ha messi due benissimo con questa nuova condizione ci sono correnti tra eteriche mentali 10 abduction al mese mi sembra impianti e soprattutto le spire no allora la cosa che sta ancora togliendo la tolta per ultima è quello che c'era a livello del petto quello quello l'ha tolto l'ha buttato via tutto il resto sparita non c'è più niente l'emozionale c'è ancora paura o altro no non c'è niente più la bambina mettiamolo in dell'emozionale un ad eternum il corpo emozionale di laura sì ne ha messo uno grande come il corpo proprio uno nel corpo fisico dove lo mette l'ha messo nella testa l'ha messo nella testa per andare a a vedere più chiaramente proprio l'altezza dove c'era il terzo occhio ha messo di provvedere chiaramente la realtà ha deciso di vedere corpo mentale se l'ha messo anche sopra la testa come andare a far fluire tutta l'energia giù eterico subliminale si l'ha messo ma nell'eterico l'ha messo in centro al petto al petto al plesso solare la pancia plesso solare mi ha messo anche subliminale c'è ancora la spira il no non c'è più niente no no la cura si è allargata inizialmente però poi è come si è sciolta non c'è più niente messaggio finale abbiamo finito sì allora la psa ti dicevo non c'è più la rappresentazione della bambina che aveva paura e vedo che il suo posto è diventata grande grande come una ragazza poi una donna e la ps dice che non non c'è bisogno di passare dalla paura per risolvere le cose semplicemente bisogna vederle chiaramente che lei è sempre stata un'ottima osservatrice che le ha la capacità dell'osservatrice e che si tratta di per lei la cosa che a cui si può dedicare e incominciare a capire che cosa le va bene che cosa non le va bene cioè che cosa decide che cosa è sua e sua scelta di fare e le cose che sta facendo se sono quelle che sta scegliere che ha scelto di fare per lei prova a ridere in un altro modo cioè di fare un diciamo un esame rispetto la vita la sua vita di come adesso quindi lavorativa quindi effettiva quindi anche il relativo alle amicizie e di chiedersi cosa sta facendo per piacere suo per scelta sua e cosa no ed iniziare a lasciare andare no ti scegliere veramente di inserire la chiave nella porta come diceva la nonna e di aprire la sua porta non le porte intorno la sua porta e di passare insomma di pensare un pochino più in maniera molto più a se stessa si viva a se stessa si e non è dipendenti nei parenti e agli altri sì ma ps saggia nuova frequenza vedo 90 miliardi nuova consapevolezza 135 per cento psp 45 per cento il 55 per cento rapida vite precedenti 1280 cervello 4,2 va bene va bene come la vedi immagine finale la bambina non c'è più no lei come la vedi allora vedo una donna intanto la vedo luminosa la vedo luminosa soprattutto nella parte della testa come se avesse fosse molto più consapevole e avesse le idee più chiare su che cosa desidera su cosa desidera e anche sulla possibilità di farlo di fare ciò che desidera la vedo luminosa si anche nella potenzialità scusami sulla potenzialità dico sulla potenzialità sì perché prima delle volte aveva un barlume diciamo di idea su cosa avrebbe voluto fare per se stessa ma quello che la frenava era il fatto di dire no comunque non lo posso fare non riuscire a raggiungerlo invece la vedo più anche più centrata sulle possibilità sulla possibilità di fare ciò che ha pensato di fare per se stessa va bene abbiamo finito quindi sei pronto a tornare stefania sì ok